E' autunno e stanno cominciando le giornate FAI e il gruppo FAI Ponte Tra Culture offre i propri saluti e benvenuti nelle rispettive lingue. I'm a FI Ponte Tra Culture in Napoli. I'm Elnaz, I come from Iran. Welcome to FAI and come and visit with Persian language. Ciao, I'm Elnaz, I'm a FI Ponte, I'm a FI Ponte, and I can also talk to my friends and I can also talk to my friends a lot, I can also hear you and hear me, and I can also hear you. Hi everyone, I'm Anna, I'm from Russia, welcome to FAI and welcome back to our show with us in Russian. Ciao a tutti, io sono Sean e state guardando Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi vi porterò a visitare Palazzo San Giacomo, sede del municipio di Napoli. Il palazzo fu commissionato nel 1816, finito nel 1925 e si chiama Palazzo San Giacomo perché sull'isola, l'insula che il palazzo occupa, insisteva la chiesa di San Giacomo e la facciata della chiesa fu distrutta e la chiesa integrata nel palazzo stesso. La chiesa apparteneva e appartiene ancora a una congrega spagnola. Il palazzo fu costruito dai Borbone con l'idea di riunire tutta l'amministrazione pubblica ai ministeri del regno sotto un unico edificio. Il palazzo si congiungeva dall'altro lato con via Toledo, ma negli anni 30 quella sezione del palazzo fu venduta al Banco di Napoli per cui non esiste più il corrido di comunicazione che portava fin lì. Il panorama che si gode da queste stanze è unico e oggi abbiamo assistito a un'apertura straordinaria del palazzo durante le giornate d'autunno fai. «Centilmente» «Centilmente» «Non voglio che solo». «Centilmente» «Si ci ho facuto farmi volessimo sentire». «Centilmente» «Arapite c'è qua». «Centilmente» di ispirazione questa statua questo presepe con la attività e modellità davanti al suo ramo e gli ossidati con queste case ma il suo ramo che semplicemente mi è piaciuto mi giudò queste case la 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 che poterà? rossa marone signor boss non ti piace il marocchino? che ti piace la cocaina? fate un bicchiere vino non è più il capitale d'Africa rossa marone le femmine chiattone che vestito curato animano le mie saline certi giuri esagerati come al mizzi sconfinati e su risi spalancati ed in due sangue musica io ritmo, ritmo, ritmo io ritmo, ritmo io ritmo, ritmo africano 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 qui nel 2016 e finalmente ha trovato pace e con questo vi saluto spero che vi sia piaciuto il video se è così iscrivetevi al canale ciao ciao